Buongiorno a tutti, certo che c'è un casino Beh, proprio ho sempre il momento giusto, il posto giusto per fare comunicazioni di servizio Comunque mi tremano le mani in maniera assurda, non so perché Buongiorno, allora è curioso che debba fare una comunicazione di servizio circa Il fatto che non ho capito come funzionano le nuove norme che entreranno in vigore dal 22 di luglio Ma so che c'entra il copyright e qua c'è musica a tutto andare Vediamo cosa succede se tolgo nel video, lo scopriremo se lo vivendo Inoltre con le mani che mi tremano, non so perché, giustamente il caffè Ma sono entrata qui e il ragazzo mi fa un po' che non ti vedo Vabbè, siamo venuti l'altro giorno con Igor, però non c'era lui E ti faccio il solito caffettino schiumato Allora, mi tremano le mani di brutta maniera Secondo me mi devo abituare a questi nuovi integratori Allora, comunicazione di servizio Ho caricato ieri il blog su juliflay79 Perché mi sono arrivate delle mail da YouTube Ma io non capisco se siano mail reali di YouTube O se siano tipo roba di spam Relativa a quello che dovrebbe succedere il 22 di luglio Io mi sono dato una letta veloce Cambiamenti su copyright, le nuove regole e tutto Però voglio capire un po' meglio Ovviamente, come sapete, a me non interessa per il discorso monetizzazione Perché non ho mai completato la fase finale Però mi interessa di non infrangere le regole E che non mi vengano rimasti i video Quindi per ora caricherò qualche contenuto anche sul canale principale Juliflay89 Poi principale, stavo usando sempre questo Anche se l'altro è attivo dall'ultimo strike Che mi avevano dato per Non mi ricordo neanche per qualcosa assurda I soliti imbecilli Di cui si sa E... Poi a partire da settembre Il canale principale lo dedicherò alle videoricette Benessere, nutrizione, eccetera Poi c'è Juliflay89 live Che era quello che avevo aperto Quando mi avevano strikeato dappertutto E li farò le live E qui farò i vlog Però per ora Andiamo un po' così a braccio Ma io sono proprio un genio Tra la musica qua giamaicana E il bordello della strada Di cui si sa Oggi Vado avanti e dietro da Casa Nuova Un altro trasloco ragazzi E c'è addosso tutto un tremore Ma questi integratori nuovi Io non lo so Boh Mi dovrò abituare Però intanto Mi sento troppo strana Vabbò Comunque oggi dovrebbe essere Il 10 Mercoledì 10 luglio o mercoledì Suppongo I suppose Non potete capire Come mi tremano le mani Come vedi Le mie mani Non tremano più Boh Ogni giorno ne abbiamo una nuova Vabbò Ah Sono circa le No Vabbè 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 Un quarto Nel mattino Di cui si sa Buona giornata va Affetto terremoto Cioè non so se si vede Il tremolio Nella Nella ripresa Comunque Boh Mensa sana Incorpora sano Top Vabbè